Per me è andata abbastanza bene la stagione, però secondo me potevo fare qualcosina di più, perché in alcune regatine e zonali della mia zona sono andata abbastanza male. Faccio Optimist da due anni e mi piace il vento, la barca e tutto. Io cerco di andare l'anno prossimo, che sono di Nores, all'italiano e arrivare nei primi 60.